Pronto? 112? Sì, buongiorno, guardi, mi trovo a Santa Marioè. C'è un incidente nel quale sono coinvolti più mezzi. Diversi feriti a terra che si lamentano. Faccio fatica però a capire cosa è successo. Sì, mi dica. Sì, vuole sapere dove? Allora, Santa Marioè, provincia di Lecco, via delle industrie. Sì, è una zona industriale. Comunque, sì, c'è abbastanza libero accesso per i mezzi. Sembra che ci sia anche spazio per far atterrare un elicottero. Comunque, dopo al massimo la richiamo. Quanti feriti? Ma, guardi, sinceramente non riesco a capire. Però penso più di 10, 10, 20. Non ho girato. Io vedo qua veramente che c'è del fumo, delle macchine cartocciate, una macchina riversa quasi in un torrente. Cioè, è una cosa veramente spaventosa. Penso che non so se hanno attentato qualcosa del genere. Sì. Allora, mi tengo il telefono libero e se mi dovete chiamare mi farete sapere qualcosa. Va bene, ok. Mandate subito i mezzi perché qui è un disastro, veramente. Grazie, grazie. 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 Grazie a tutti. Il posto medico aumentato è quasi 4 di po', quindi da adesso i pazienti potranno essere morti.